L'undicesima edizione di Io non rischio, la manifestazione organizzata dalla protezione civile per promuovere le buone pratiche in caso di calamità naturale, si terrà online domenica 24 ottobre, dalle 9 alle 17. Per partecipare ci si deve collegare col sito del Comune di Prato, quello della protezione civile. È stata anche attivata una pagina Facebook per interagire direttamente con gli organizzatori. I cittadini potranno attraverso questi contenuti avere dei consigli su buoni comportamenti e su come interagire nel caso di terremoto, sperando che non accada mai, maremoto che comunque è un argomento trattato ma che a noi non ci tocca da vicino, le alluvioni invece sappiamo che il territorio di Prato è molto soggetto. Nella piazza virtuale, oltre a piccoli video per insegnare alla popolazione cosa fare in caso di cataclismi, le sei associazioni del territorio coinvolte hanno organizzato anche un gioco virtuale, che si aprirà la mattina alle 9.30 e nel primo pomeriggio. Alle 16.30 invece è previsto il collegamento con la Regione Toscana. La protezione civile è assolutamente organizzata e ha programmato cosa fare step by step in questi eventi. Io non rischio, è una circostanza per poter parlare in maniera tangibile di questa programmazione, di questi eventi e di come far affronteggiarli. I volontari coinvolti nell'organizzazione sono 60. Alla scorsa edizione, anche quello online, durante tutta la giornata si sono collegate oltre 18.000 persone.